bene trovati amici ma soprattutto amiche dello spalino.com se non sbaglio il conto appuntamento numero 29 con la diretta del mercoledì dello spalino stavolta è eccezionalmente di mercoledì invece che di giovedì come la scorsa settimana io sono alessandro landini come al solito c'è leonardo biscuola ciao leo come quasi al solito ci sono io ma non c'è la polli perché perché noi abbiamo detto che avremmo fatto la diretta stasera questo per dire che questo per dire due cose uno che la nostra organizzazione interna diciamo potrebbe essere un po migliorabile due che anche stasera abbiamo iniziato alle 9 un quarto con la giusta calma con la concorrenza della coppa italia che qualcuno sbirgerà perché non è non è da dar per scontata sta diretta per chi ci segue perché veramente implica degli sforzi organizzativi che sembrano essere modesti ma in realtà non lo sono per nulla perché cospic no cospicui no però comunque bisogna bisogna sempre incastrare tutto non è mai scontato anche perché piccola parentesi poi chiudo cioè nessuno di noi fa il giornalista tutta la settimana 24 ore al giorno e quindi io ho la fortuna di poterlo fare mezza giornata al giorno però poi tutto il resto va fatto quadrare vabbè comunque ciao a tutti quelli che stanno salutando non credo avremo tanta gente collegata stasera però durante gli ultimi tre o quattro giorni visti gli eventi leo più di una persona ha scritto ai profili social dello spallino chiedendo ma farete la diretta mercoledì ci siete non ci siete sì la facciamo perché nel frattempo da giovedì scorso sono successe un paio di cose ok intanto c'è stata una doppietta di finotto il che insomma non è una roba che succede molto infrequente quindi direi che la celebriamo risalto insomma sì giusto dare risalto anche se leo adesso io non so come tu ti senti a riguardo ma cioè venerdì abbiamo visto sta partita e tutti abbiamo pensato oh è finito sto campionato no ma è passata cosa neanche 24 ore ma meno che subito si è cominciato a parlare di futuro perché c'è si è scoperto che tacopina caccia via zamner tarantino e franceschi comincia a guardare il futuro a tre aspetta cinque giorni dalla partita non c'è ancora una parola definitiva sull'allenatore della prossima stagione e quindi ci sono speculazioni non è mica obbligatorio farla diretta scrivere proprio così non è mica obbligatorio è proprio quello che abbiamo pensato noi effettivamente però ma siccome visti gli eventi e siccome sappiamo di avere un pubblico devoto e siccome la coppa italia a noi non interessa abbiamo detto vabbè dai la facciamo ma anche perché cioè se ce la direte lo spallino perché guardare la coppa italia tutto sommato quindi anche perché tanto la juve sta già perdendo quindi ecco fantastico no allora sì diciamo che il dal punto di vista giornalistico è cominciata come come peggio non poteva cominciare perché neanche veramente il tempo di riposarsi una settimana e io sabato mattina ho compilato tutti gli articoli sai la tribuna stampa questo e quest'altro ho detto oh che bello un weekend in cui posso stare tranquillo dieci giorni in cui non succederà assolutamente un tubo e invece cioè io ho lavorato invece tacopina ha deciso di azzerare lo staff tecnico della spa praticamente però vabbè ci sta insomma parlando un po di attualità orla il fatto che zamuner e tarantino fossero ormai prossime ad uscire secondo me era un po nell'aria questa cosa ma su tarantino tu non ci avevi messo la mano sul fuoco su zamuner sì su tarantino no però insomma la componente importante credo che sia stata quella di zamuner visto che poi comunque i ruoli erano diversi tarantino si occupava più di un'altra cosa della parte di scouting mentre zamuner era più direttore sportivo come come il termine vuole però diciamo che la mossa può essere condivisibile o non condivisibile ovviamente io penso che ci stia perché tu immagina a fronte di una stagione come questa in cui hai centrato il minimo risultato tacopina come può ancora parlare di playoff di raggiungimento se non cambia qualcosa nella testa della sua organizzazione quindi secondo me per quanto mi dispiace umanamente per zamuner perché comunque insomma è una persona rispettabilissima tarantino io non lo conosco però insomma chi quanti termisti ha rilasciato tarantino in quest'anno tipo esatto infatti e forse vabbè insomma al di là di quello che mi è stata coppina comunque sono persone stimabili rispettabili però insomma c'era bisogno di altro adesso orla sono proprio curioso di vedere cosa succederà con il natore no le parliamo dopo perché così però insomma adesso il grande il grande punto interrogativo è quello sì perché prima di parlare del dell'allenatore dobbiamo parlare un attimo di un tema diciamo così connesso a quello che abbiamo appena detto c'è che arriva il signor wolf quello che risolve i problemi cioè è fabio lupo ovvero il ds che è stato scelto da giottacopina per prendere il posto di giorgio zamuner e wolf ovvero fabio lupo arriverà con uno staff completo al seguito perché dovrebbe arrivare con lui armando orto che quest'anno ha lavorato con il cittadella anche se in maniera non ufficiale diciamo così come sotto transe sì nel senso che ha collaborato con marchetti ma non non figura per esempio nel nell'organigramma del cittadella quindi vuol dire che è stata una collaborazione c'è stata una collaborazione partita iva non lo so fatto sta che comunque non era non era un un dipendente in base ai calciatori che gli portava quindi ci sarà ci sarà questa 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 rivoluzione nell'area tecnica il discorso che fai tu leo lo condivido solo in parte nel senso che uno io non mi aspettavo che tarantino venisse messo alla porta perché tarantino fino a cinque giorni fa lo pensavamo un uomo di tacopina tra virgolette quando in realtà era un pochino più complesso di così perché è stato portato a ferrara da uno degli uomini di tacopina ossia gianluca canvareri che è l'avvocato della società praticamente uno dei più fidi consiglieri di gioco tacopina ma che è un grande conoscitore dell'ambiente della S Roma che conosce tutti lì è una figura anche rilevante nell'ambiente romano non mi aspettavo che mi sia andato via perché sai quest'anno è arrivato è salito sul treno in corsa ha partecipato alla costruzione della squadra però insomma il tempo per incidere veramente con una sua idea di progetto tecnico non ce l'ha avuta da quello che abbiamo avuto modo di capire la situazione era sotto controllo fino all'inizio aprile e poi c'è stato quello spal crotone che ha fatto precipitare gli eventi non che tacopina abbia deciso dopo spal crotone che dopo quella partita direttori sportivi andavano mandati via ma ha detto vabbè ho avuto la dimostrazione che qui ci sono dei problemi e adesso dobbiamo cambiare però pongo un problema di merito se tu mandi via i tuoi direttori vuol dire che non hanno lavorato bene se non hanno lavorato bene vuol dire che i giocatori che hanno preso sono scarsi ma questo rappresenta una contraddizione in termini perché tacopina anche nelle ultime due interviste ha detto la squadra secondo me non era così male secondo me poteva ambire i playoff quindi quello che vorrei capire lupo arriva per smontare questa squadra pezzo per pezzo o per migliorarla in quei tre o quattro giocatori che comunque mi risulta tarantino e zamone l'avevano già cominciato a individuare per fare un pochino il salto di qualità non so allora quello che tu dici secondo me ci sta è ragionevole porsi la domanda della serie ok se non hanno fatto bene perché si parlava di che la squadra potesse puntare ai playoff sono due cose in antitesi tra di loro però probabilmente orla non è solo quello l'elemento di insoddisfazione di tacopina cioè probabilmente tacopina vivendo metà del suo tempo a ferrara l'altra metà dall'altra parte immagino che come tutti viva di percezioni io insomma mi metto nei panni di uno che deve decidere non sempre comunque le decisioni sono razionali o comunque sono per forza dettate da un unico aspetto ossia la costruzione della squadra probabilmente forse magari lo chiederemo a lui quando appena ne avremo la possibilità e appena lo ufficializzeranno perché ancora ricordiamo che di ufficiale non c'è niente però è ufficioso insomma ecco dai possiamo dire che sia quasi quasi diciamo siamo 95 per cento sicuri che le cose andano però che magari non sia l'unico aspetto quello lì che tacopina ha valutato magari non era contento per altre questioni e questo sarà un tema molto importante da capire perché è chiaro che la sola valutazione hanno lavorato bene quindi ha fatto la squadra da playoff però non ci siamo arrivati allora vorrebbe dire che è tutta colpa dei giocatori sono i giocatori il problema invece insomma tacopina come prima scelta ha fatto quella di azzerare chi prendeva le decisioni dal punto di vista tecnico quindi qualcosa sicuramente ci dovrà spiegare già e tra l'altro il profilo di fabio lupo ha un po' preso tutti di sprovvista perché dopo che c'è stato per i netti un mese allo stadio praticamente aveva la tenda lì tutti i giocatori hanno detto ah vabbè ok se cambia cambia e prende per i netti per i netti che tra l'altro ha lavorato con lupo perché era con lui a venezia ma evidentemente non non fa parte dei pensieri di gioco tacopina fermo restando che lupo ha lavorato un anno intero con tacopina l'anno del post ripescaggio ha fatto una squadra discreta che è arrivata a metà classifica ha preso giocatori che ancora oggi sono organico e venezia che hanno dimostrato di essere validi ha scelto un allenatore come lesse dionisi quindi non è l'ultimo dei pirla anche perché quest'anno ad ascoli ha fatto una buona squadra senza spendere granché e l'ascoli è playoff e la spallò quindi insomma io sono curioso di vedere di vedere questa squadra che tacopina ha intenzione di insediare in via copparo tra l'altro da quello che si legge in questi giorni cioè ha intenzione di prendere quattro se non cinque figure oltre cioè il ds più altre tre o quattro quindi cioè mi sembra un potenziamento dell'area tecnica dovranno anche capire come sistemarsi in via copparo perché non mi risulta che ci sono tutti questi uffici liberi e quindi vabbè quello lo vedremo però ecco fabio lupo ha due caratteristiche uno è un ds che è abile a lavorare con budget limitati c'è stato detto sia da venezia che da ascoli e poi è un grande conoscitore della serie c ora questa frase si presenta a presi presa facili ironie leo però è un anno intero se non di più che sentiamo dire ma giamolo non capisce niente perché in cino pesca il talento la punta magari trovi lì un il galuppini mi ricordo l'anno scorso si parla di galuppini che adesso gioca nel sud tiro è stato promosso scusa lo stesso moro lo stesso moro che ci hanno esatto sono stati triturati i puntini i panetti per dire un termine fine gioca in serie c tra l'altro ora tu hai citato che si è messo a segnare a febbraio poi vabbè il catania è stato escluso dal campionato quindi la sua stagione finita anticipatamente però vabbè al di là di questo comunque tra i temi che hai citato c'è anche quello del budget e secondo me prima che andiamo facciamo l'ultima diretta poi andiamo in ferie anche noi per un po non è un tema secondario ed è un tema che secondo me bisogna spiegare anche a chi ci sta ascoltando a parte che l'abbiamo detto tutta la stagione quindi non è una novità però l'anno prossimo alla spalla non navigherà nel loro ce l'hanno detto anche da vicino insomma chi chi tratta con mano i conti e chi deve fare ragionamenti basati sui conti dalla mattina alla sera entro la spalla che comunque anche l'anno prossimo ci sarà ancora degli arretrati da da smaltire perché comunque la situazione quella degli anni precedenti non è assolutamente smaltita dal punto di vista economico finanziario quindi il anche l'ingaggio di lupo va anche in questo senso lupo come detto tu è un ds un dg che è abituato a lavorare con anche dei budget limitati cosa che comunque la spalla l'anno prossimo continuerà ad avere dovrà fare certo esatto dovrà fare e anche le sfide che si presenteranno lupo non sono di secondo livello o di minore difficoltà rispetto a quelle che aveva zamuner direi di no forse un po meno forse un po meno per carità un po meno però comunque l'ingaggio di viviani l'ingaggio viviani ancora lì l'ingaggio di murgia che rientra dal presto perugia è ancora lì si sa insomma tra l'altro tra l'altro oggi oggi mi è stato raccontato di un'intervista al ds del perugia comotto al quale è stato esplicitamente chiesto di murgia e mi è stato riferito come contenuto diciamo in anteprima intervista eh sì ci sono poche speranze che lo riscattino ma dai cioè non ha mai giocato non ha mai giocato prende uno sbaracco di soldi vabbè vabbè insomma sì anche dammar lavorato con pochissimo dice andrea ed è questo il punto infatti io personalmente l'ho detto mille volte non capisco perché la gente dia del pirla zamuner quando in realtà cioè ha fatto quello che doveva fare o poteva fare poi uno dirà ma poteva far meglio aveva la grande ma penso che lo sappia anche lui però voglio dire in questi due anni in cui credo nessuno avrebbe voluto fare gli essi della spalla fidatevi perché cioè arrivi in piena pandemia col campionato ancora fermo cioè di biaggi in panchina una squadra che che non ne ha più e non vede l'ora di di finirla lì che perde se non sbaglio cosa ha perso 15 partite su 16 una roba del genere è veramente qualcosa di sconcertante ti ritrovi a fare una campagna acquisti in cui devi vendere 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 perché colombarino ha detto di fare questo non puoi comprare niente e a gennaio ancora perché a gennaio dell'anno scorso è esattamente questo lo gennaio quest'anno arriva un proprietario nuovo dice o comunque di soldi non ce ne sono quindi abbassa i costi fai plus valenze ok lui le fa perché sec plus valenza elerson plus valenza difra ha dato via una bella operazione con lo spezia hanno venduto elerson e ti hanno dato caparadossi però l'ingaggio lo paga lo spezia insomma cioè dopo dico ma vuoi la punta ho capito ma la punta senza i soldi dove la prendi ecco perché è tutto lì quindi io veramente voglio esprimere ancora una volta la mia solidarietà giorgio zamoner perché secondo me è un valido professionista e ha avuto ha dovuto lavorare in un contesto in cui chiunque avrebbe avuto difficoltà ce l'avrebbe avuto bagnati che oggi è un ds di serie a ce l'avrebbe avuto maurizio natali che oggi commenta a telestence ce l'avrebbe avuto tutti quindi va beh infatti il fatto che nessuno credo possa negare che zamoner ha operato in un contesto di totale difficoltà di emergenza di emergenza però secondo me la scelta di tacopina è ragionevole nel senso che qualcosa andava cambiato anche per dare un nuovo corso idee diverse sono magari persone con le quali lui ha altri progetti oppure anche un'altra sintonia o si aspetta diverse cose tacopina ha deciso di cambiare io non mi sento di dire che è stato un pirla farlo insomma secondo me ci sta pur riconoscendo che zamoner ha operato e zamoner e tarantino a sto punto hanno operato in un contesto complicato cioè non è che abbiamo riuscito negli occhi però tutto sommato questa questa rivoluzione è comprensibile in qualche modo ci sta comunque fatto sta che zamoner è già stato informato dalla decisionità copina così come tarantino e quindi questo è il il presente per rispondere alla domanda che c'è nel titoletto quanti soldi ci sono non lo sappiamo ma non ce ne sono poi così tanti nel senso che quest'anno sono state fatte tre cose sono stati come dire incassati i contributi per i giovani due milioni e mezzo quasi e dei minutaggi quelli servivano per abbattere un po' la mole di debiti che era rimasta in carico nel bilancio si è ricominciata a guadagnare qualche soldino con lo stadio va bene quello non era una cosa che dovevano fare i direttori sportivi però anche quello sicuramente aiuta visto che è uno stadio bellissimo e dovresti provare a usarlo e abbiamo visto l'ultima giornata col frosinone che insomma quando ci sono 6 7 mila persone è tutta un'altra storia e poi cosa doveva fare doveva costruire una squadra sufficientemente competente per salvarsi cosa che poi è successa anche se con atroci sofferenze e poi doveva provare a mettere le basi per un ulteriore salto di qualità sia nei conti che nel progetto tecnico nei conti ci sono delle variabili perché leo l'abbiamo prima detto torna murgi altri due anni incontrato quasi un milione una stagione e chi te lo prende dopo che ha fatto da tapezzeria al perugia nessuno quindi presumo che cosa faranno cercheranno una soluzione ma poi diranno vabbè lo portiamo in ritiro vediamo vai si ripiglia e dovremmo fare un appello a vagnati che sicuramente ha più margine per per riprenderlo di fargli un prestito al torino così parzialmente apprezzi quel tipo di giocatore di franceschi cosa ha fatto la spalla era nel gruppo comunque di damoner franceschi credo si sia occupato molto di scouting soprattutto ma comunque era il braccio destro di giorgio damoner quindi penso abbia tenuto anche contatti con procuratori anche lui una figura un po nell'ombra perché da quando a ferrara penso abbia rilasciato zero interviste o una dopo lì sei leo qui c'è un tema di comunicazione anche i direttori sportivi direttori generali diciamo così non parlano molto con la stampa questo da un lato probabilmente li agevola dall'altro li li danneggia perché se avessimo parlato due tre volte in più con zamner e avessimo avuto una chiave di lettura diciamo raccontabile di alcune scelte forse anche la sua reputazione avrebbe giovato un pochino e invece molte delle sue scelte le vediamo ma non ne conosciamo i dettagli non ne conosciamo la logica e cioè fermo restando che poi la gente capisce sempre quello che vuole capire perché ancora oggi a quasi un anno in distanza leggo ma moro potesse riscattato riscattato ho capito lui lo vuole riscattare ma se i colombani hanno detto non ti do un euro per riscattarlo e non riscatti punto e mi ha fatto vedere il messaggio di sarah che dice stasera non mi seguo perché sto bevendo delle birre all'hangar molto bene sarah per quanto riguarda una frecciatina una frecciatina del fatto che noi promettiamo e non manteniamo questa storia della diretta diciamo la vorremmo fare forse la settimana prossima ma non ci siamo ancora sbilanciati perché l'organizzazione in realtà non è una stupidaggine perché non basta avere un telefono lì e mettersi lì e trasmettere soprattutto se vogliamo fare la gestione commenti ma soprattutto se vogliamo avere un video decoroso e un audio che funzioni che ci senta bene si possa vedere anche chi non è fisicamente lì al locale no si tra l'altro ma banalmente se ci fossimo messi stasera fuori dall'hangar tipo avremmo avuto comunque bisogno di un faretto cioè delle sfide tecniche che non sono banali quindi comunque ci stiamo lavorando entro la fine della settimana dovremmo riuscire ad avere qualche tipo di novità la prossima settimana vorremmo fare il finale stagione anche perché finisce il mese no non finisce il mese di maggio sta per finire il mese di maggio e noi vorremmo chiudere il mese di maggio con l'ultima diretta il 25 maggio vorremmo essere tutti in vacanza ecco questo è il tema ho visto dei rossi a tozano dice paolo va bene parliamo anche un po di questo sì intanto è questo l'argomento caldo dei giorni no vabbè sì perché oggi è venuto fuori un articolo di tutto di nese dice pal contatti con luca gotti ci chiedeva conto anche prima qualcuno che ha commentato stasera pochi commenti è perché si vede che siete un po scarichi nome di gotti buffalo realtà john don teflon gotti questo è un riferimento a una figura della società americana john gotti uno degli ultimi boss della malavita di cosa nostra new yorkese insomma una figura anche culturalmente rilevante nella storia statunitense allora dei rossi partiamo da dei rossi perché ho perso ho perso tutta la giornata di domenica praticamente cercare di capire cosa cosa ci fosse di vero ho trovato poco di vero onestamente quindi sono sono come dire abbastanza convinto del fatto che la storia dei rossi sia una storia messa in piedi un po così e in maniera avventurosa e che non abbia un una reale base sui fatti su gotti non lo so su gotti non lo so perché oggi ho provato anche a mandare qualche messaggino quella anche cotti i due coppi non lo so perché non ho ancora avuto tutti i due botti al massimo tutti i due botti esatto prendere per aprire un un'enoteca ai due botti ai due botti e no allora può può essere come può non essere il punto è questo leo secondo me non è tanto una questione di nomi di gotti di rossi o chi per loro ma che a me sembra veramente strano che tacopina e venturato non abbiano ancora parlato perché non sappiamo se hanno parlato avrebbero dovuto farlo perché l'ha detto sia tacopina l'ha detto sia venturato in un'ultima conferenza stampa ci incontreremo parleremo ok joe è ripartito per gli stati uniti domenica quindi non è a ferrara in questo momento può aver fatto uno skype una telefonata qualunque cosa però al momento non da via coppare non sta uscendo niente ma né in un senso né nell'altro quello che a me preoccupa leo ma magari è solo una mia paranoia è che la situazione la situazione si stia rastellizzando cioè che ci sia una situazione come quella di un anno fa quando rastelletto sì sì io resto volentieri basta che mi chiamino e non l'ha chiamato nessuno e al 30 giorni detto vabbè bel cioè grazie questo è il tuo ultimo stipendio ciao beh però rastelli era in come dire in esaurimento del contratto avventurato invece ancora un altro anno sì ho capito però quello che che a me che a me non quadra è se sei convinto di tenerti il tuo allenatore dovresti già averlo detto e invece la mia sensazione che tacopina si stia dando un'occhiata intorno e non so quanto questo possa piacere avventurato ma tu direi cioè è un problema suo ma non so neanche quanto questo lo legittimi in maniera seria e convincente in vista della prossima stagione ma secondo me è un ragionamento non so che ci può stare ma lo definirei un po troppo paranoico in questo momento che non hai ancora cioè non sono allenatore non ha ancora ufficializzato il direttore sportivo e avrebbe potuto benissimo farlo visto che ormai ai diretti interessati è già stato comunicato alla questione quindi io non intendo il silenzio di tacopina anche per un messaggio che ha scritto prima massimo bombaggi che dice tacopina non paga due allenatori cioè in un'ottica anche solo di sì vabbè però erano sono anche successe delle cose quindi insomma c'erano altri programmi un altro momento io non vedo perché venturato non debba essere allenatore della spalla nella prossima stagione a questo punto è a questo punto sinceramente io di venturato non sono rimasto entusiasta perché alla fine ha fatto la stessa media punto di clotet alla fine della corsa quindi non è che abbia fatto qualcosa di incredibile ma io lo vorrei vedere lo vorrei vedere con una squadra nuova cioè con una squadra di giocatori comunque da noi scelti e con un ritiro fatto con una preparazione adeguata e così insomma su questo lo vorrei misurare non su un subentro in corso in una situazione complicata insomma mi sembra veramente di buttare via un'opportunità prima di lanciarti una piccola provocazione c'è gente che nei commenti parla dell'instagram di esposito chi l'ha visto? ti ha detto arrivederci sì no ha scritto tipo mi mancherai una foto di Ferrara ma allora il fatto è che quattro ore dopo ha messo un'altra storia di instagram nella quale si tagga a Brescia dove lui a casa da sempre e una piscina cioè credo che il senso del post di esposito fosse ho lasciato la mia casa a Ferrara mi mancherà adesso ci ripensiamo eventualmente a luglio inoltratto quando tornerò insomma mi sembra neanche la tempistica giusta per dire anche perché ho alla spalla la prossima stagione cioè deve far cambiare direttore sportivo aspetta sì tra l'altro non è la tempistica giusta ha un altro anno di contratto più opzione per quello dietro e quindi non è nella posizione neanche di ingaggiare una battaglia con la spalla perché se no la spalla può dire vabbè stai seduto sei mesi poi ne riparliamo ma poi vorrei aggiungere una cosa ulteriore Leo esposito come ha dimostrato nella famosa intervista post partita dopo la partita qualcosa e sa dove si è abituato bene se deve annunciare qualcosa non lo fa con un post un po così sottone criptico è cioè ti fa un carosello di dieci immagini di instagram dei suoi momenti migliori a Ferrara e un post lirico con scritto è stata la mia casa per quattro anni ho dato tutto e i tifoi sono stati speciali non è non è il clip non è un criptico esposito quindi infatti secondo me non c'è argomento adesso no ma infatti tre o quattro persone anche a livello personale proprio mi hanno mandato questa immagine oggi pomeriggio ma ho detto tutti ragazzi secondo me sta solo mollando l'appartamento e lo cambia è un po come quando la settimana sporsa abbiamo detto a mancosu ha già disdetto l'affitto ma certo che disdetto l'affitto perché se il campionato finisce 6 di maggio fanno l'ultima settimana di allenamenti oggi hanno fatto la grigliata al campo hanno gli ultimi due allenamenti domani e venerdì poi tutti tutti a casa tieni conto che ora che ricomincia la preparazione è luglio e poi luglio lo faranno un po in montagna forse negli stati uniti chi lo sa e questo è staltro presente nelle loro case rientrano veramente a fine luglio inizio agosto non mi sorprendono queste cose e ripeto questo non è un criptico stavamo parlando dell'allenatore comunque se no infatti è anche una cosa che ci chiede di gotti e gotti come come ho detto a te leo oggi pomeriggio questa storia di gotti è un'occasione per per ricordare come funzionano come funziona il ciclo delle news soprattutto per quanto riguarda il calcio mercato la situazione può essere vista in diverse maniere uno la spalla veramente chiamato gotti e gli ha chiesto o vuoi venire a fare la nostra allenatore giusto per sapere quindi qualcuno che lavora con gotti o gotti stesso l'ha detto qualcuno e quel qualcuno l'ha poi pubblicato ok scenario a scenario b eh l'ausibile eh l'ausibile scenario a non abbiamo ma non abbiamo ma non abbiamo conferme no no esatto allo spallino ti piace sempre dire abbiamo dobbiamo avere almeno una fonte e mezza che ci conferma la storia se no non ci crediamo scenario b è che qualcuno che si occupa degli affari di 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 gotti eh sta un po' sondando il terreno qua e là magari può anche aver fatto un colpo di telefono a zamunere de franceschi infatti andrea ce lo fa notare gotti di contarina c'è eh provincia di rovigo eh si sono amici si conoscono da tanto tempo eh può anche aver fatto un colpo di telefono dire oh eh ma lì come siete messi ci sono davvero i soldi prossimo anno che progetto avete e magari qualcuno poi ha parlato con qualche giornalista questa storia è venuta fuori oppure ci è un'invenzione totale cioè qualcuno ha detto ma sì ma gotti cosa sta facendo ultimamente va boh magari magari andrà alla spalla perché ho visto ma sì perché uno fa un po di rassegna online vede tacopina e de rossi e questo sta cercando qualcuno eh allora e allora va bene mh quindi però siamo ancora in una fase talmente preliminare che che derubricherei questa storia a vediamo a un vediamo a inconsistente inconsistente cioè non non vedo consistenza in questa storia eh dice Mauro prenderei Pippo Inzaghi Pippo Inzaghi è un altro che ha lavorato con Tacopina quindi può anche può anche succedere ma Inzaghi se non sbaglio ha un altro anno col Brescia ed è in causa con Cellino quindi non so come andrà a finire questa storia lascerei lì e non bene comunque comunque fermo pensando che se io avessi i tuoi i soliti cinque euro tuoi io li investirei sulla conferma di Venturato ad oggi lo dicono anche in diversi nostri commenti anche Andrea e ma sul Venturato però voglio dirti una cosa Leo mi ha fatto notare un collega oggi che è su Udinese.it la storia di Cotti sì ma Udinese.it non è non è il sito ufficiale dell'Udinese è una testata come può essere lo Spallino che ci occupa dell'Udinese quindi cioè non so quale sia la loro politica sulle notizie di mercato se le verifica o no ma insomma adesso stavo guardando anche tutti gli altri che si occupano di mercato in Italia e non non vedo nessuno che ha ripreso questa notizia quindi anzi su tutto mercato Udinese no Udinese.it è il sito dell'Udinese e non credo proprio che ci sia la conferma di Gotti tutto Udinese tutto Udinese perché Udinese.it Ma tra l'altro scusa Leo leggo adesso questa cosa che è uscita ieri sera su tutto il mercato web sul fatto che Cioffi l'attuale allenatore dell'Udinese che a sua volta se non sbaglio era il vice di Gotti ha preso il suo posto a Udine. È tutta una questione di vice a Udine. Sì sì di vice in vice. Proviamo a vedere chi è il vice di Cioffi prendiamo lui. No ma dicevo c'è scritto Gino Pozzo ha proposto a Cioffi un contratto sullo stile che ho fatto a Gotti un contratto di un anno a 400.000 euro a stagione allora se questo è il parametro mi sento di dire che Gotti a Spal non ci viene neanche morto ma perché la Spal non ha quei soldi da dare a un allenatore. Sono questi i parametri economici di quest'anno. Mi dava la pena semplice in serie A quando era arrivato tredicesimo direi che Venturato ne guadagna molti meno. Però scusa Leo vorrei completare questo discorso sull'allenatore. Un collega oggi mi ha lanciato una provocazione mi ha detto ma secondo te non è plausibile che Gio stia cercando un allenatore in stile dei rossi o comunque un allenatore diverso avventurato anche perché a fronte dei risultati non così brillanti in campo vuole qualcuno che abbia un peso mediatico diverso e una presenza comunicativa che sia quantomeno compatibile alla sua cioè il fatto che Venturato sia questo uomo austero molto tranquillo non inclina la rabbia comunicativamente scarso perché quello è cioè non è che dobbiamo indurare tanto la pillola le sue conferenze stampa cioè non si reggono ma perché ma perché è chiaro che non gli piace farle non ha niente da dire ai giornalisti non gli piace dire le cose ai giornalisti non è non è una colpa è un limite vabbè ma tutti abbiamo i nostri limiti però c'è Clotet se avessimo fatto delle conferenze stampa di due ore se avessimo fatto di due ore raccontarci la sua visione le sue esperienze le sue idee anzi spesso volentieri spiegava anche concetti tattici durante le conferenze stampa ti ricordi quando ci spiegava ma aveva preso gol perché quello non ha chiuso così c'è stato un movimento cosa piaceva gli piaceva questa cosa avventurato si percepisceva che non gli piace gli fa schifo parlare con i giornalisti secondo me a Tacopina non gliene frega niente della di questo aspetto cioè del peso immediato ma no sicuramente per lui è importante ma Tacopina ha detto che la spalla deve crescere dal punto di vista della comunicazione e del merchandising su altri fronti anche a livello commerciale insomma non credo sia quello che a Tacopina interessa io credo che se Venturato siede sulla panchina della spalla nella prossima stagione e vince dieci partite di fila non credo che Tacopina storca il naso perché nella conferenza stampa è noioso cioè Tacopina interessa credo ma sono abbastanza sicuro di questo comunque interessi vincere al di là dell'allenatore che prende poi che l'allenatore che siede in panchina abbia un carisma più o meno simile al suo secondo me insomma sono tutte speculazioni come direbbe Eclotet però a porca di Eclotet solo ci chiede Eclotet punti domande cioè cosa ti riferisci perché non riesco a capire cosa sta facendo non è di aver contratto comunque per fino al 30 giugno ma è in giro per l'Europa che va a vedere partite quindi sta benone riprendiamo Eclotet, Venturato specula no non credo riprenderemo Eclotet anche se a me non dispiaceva è che a volte aveva queste come dire questi momenti da scienziato pazzo del calcio che mi lasciavano un attimo perplesso non avremmo mai la controprova di come sarebbe andato a finire se fosse rimasto Eclotet però io mi ricordo il momento preciso in cui a parte che è andato via per divergenze come dire strategiche con la società non perché comunque la spalla era a 20 punti quando lui se n'è andato quindi era totalmente in linea con gli obiettivi e le possibilità di quella squadra perché poi Venturato ha avuto anche la squadra rinforzata rispetto a quella di Eclotet questo non mi ha dimenticato però dai insomma Eclotet secondo me in quel momento lì stava un attimo aveva le idee un po' confuse un po' offuscate sì probabilmente sì comunque detto questo abbiamo detto facciamo una diretta light giusto per commentare la strettissima attualità senza fare grandi speculazioni che idea ti sei fatto sulla storia dello stadio che è venuta fuori in questi giorni? che è un casino io ti ho mandato un commento e ti ho detto io aspetterei prima di fare delle considerazioni ma sì sostanzialmente la storia è che da quello che si è letto perché comunque io non ho fonti diverse rispetto a quelle che si sono lette da una parte la SPAL tramite Tacopina tramite l'avvocato Cambareri vuole rivalersi nei confronti dell'impresa che ha fatto i lavori per i danni e quindi per l'esborso che ha dovuto fare per le repartioni dello stadio e sembra che con una mano gliene dà di botte e dall'altra il reparto commerciale cerchi di spillare la sponsorizzazione però che prende le botte Tacopina non deve essere divertente no io non le vorrei prendere dall'altra parte sempre alla SPAL con un altro ufficio cerchi di fare spillare una sponsorizzazione sempre alla stessa impresa come sponsor di maglia quindi probabilmente lo sponsor più importante che ci può essere in una stagione insomma io non mi sbilancio nel senso che non conoscendo un po' il mondo delle imprese e anche un po' quello commerciale lascerei non farei un commento su questa cosa ciò che conta Leo è che da quello che abbiamo capito dovranno fare questa super perizia di nuovo ma rassicuriamo tutti perché è una super perizia sulle carte, sui progetti non ha niente a che fare con le strutture anche perché le strutture ormai sono state sistemate quindi cosa vai a verificare non c'è niente da verificare ormai è tutto a posto le strutture sono a posto nel senso è stata fatta una relazione tra l'altro approvata dalla stessa procura e quindi lo stadio è stato aperto insomma lo stadio è a norma e a posto è chiaro che però è un posto e quest'estate si può fare la campagna abbonamenti se Dio vuole beh sicuro l'iter però burocratico avrà chissà quanti altri anni andrà avanti ancora l'altro anno come minimo prima di capire se la SPAL prenderà dei soldi di risarcimenti o roba del genere esatto quindi vabbè vedremo una brutta storia va bene Leo non abbiamo altro di cui parlare a dire il vero quindi cioè mi dispiace per Buzzo che è arrivato adesso ma comunque la puoi guardare anche indifferita ci chiede Mauro quando pensate che Joe parli dei progetti 2022-23? credo a ritorno credo che lo farà a ritorno dagli Stati Uniti ci è stato detto che ha in programma un rientro nella settimana che va dal 23 maggio quindi tra due settimane si presume che per quell'epoca lì uno abbia le idee chiare vabbè su DS credo che sia solo questioni di giorni a questo punto che venga annunciato l'avvicendamento su allenatore si spera che abbia deciso per quell'epoca fermo restando che nulla toglie che il direttore sportivo possa fare la squadra a prescindere dall'allenatore ma lo troverei come minimo bizzarro però come metodologia è anche vero orla che la notizia è venuta a fare adesso ma magari Lupo ha l'incarico informale già da un mese magari noi non lo sappiamo da un mese no quello no però può lavorare lo stesso anche senza che sul sito compaglia l'unità sì assolutamente può già cominciare a chiamare la gente e dire guarda che lavoro alla spalla adesso quindi quanto vuoi per questo per quello però sarebbe un po' inelegante anche nei confronti di Zamo nel Tarantino insomma non credo che sia succedendo questo credo che Lupo aspetti di essere completamente legittimato da un contratto e da un'operatività piena comunque ecco per rispondere a Mauro presumo proprio che l'ultima settimana di maggio sia il periodo nel quale o la prima settimana di giugno Joe farà le solite due settimane qua in Italia probabilmente si esprimerà pubblicamente farà una conferenza stampa o qualcosa del genere insomma per delineare i piani fermo restando Leo ecco prima di chiudere in quell'intervista che ha rilasciato Elbis mi ha fatto un po' ridere che ha detto l'obiettivo della serie A non il prossimo anno non quello dopo ma diciamo in un arco di tempo in un arco di tempo abbastanza limitato e che contrasta un po' con la narrazione che lui ha provato a fare fino a 6-7 mesi fa cioè perché in altre interviste soprattutto rilasciate negli Stati Uniti diceva no no prossimo anno si spacchiamo tutto e lottiamo per la serie A al di là del fatto che c'è un Joe che parla in America e dice delle cose e quando viene qua come dire sta un po' più dalla banda del frumento no? come si dice dalle nostre parti ma mi sembra che abbia un po' ricalibrato anche i tratti del suo messaggio e io ne sono solo che felice perché comunque non è che sparando in alto più spari in alto più ottieni dei risultati io mi ricorderò ancora anche se ci sono dei sostenitori del mind setting dicono lui fa così perché così tutto l'ambiente si setta su un ambiente ma io sono io sono d'accordo io sono d'accordo ma vabbè questo lo dico cosa? no niente queste cose del mind setting del dire penso come uno di successo così arriverò al successo non è vero se sei un perdente rimaneremo perdente perché forse ci sei nato perdente ma vabbè è una storia molto lunga da raccontare comunque vabbè io in realtà penso che un pensiero positivo e una una positività nell'ambiente possa solo che fare bene sicuramente fa meglio che un ambiente depresso oppure sempre musilunghi questo è poco ma sicuramente va bene ok fin lì ecco e fin lì siamo d'accordo poi se Tocopina deciderà l'anno prossimo di adottare una strategia comunicativa un po' più calata nella realtà di Ferrara e per la di Ferrara intendo che qui non si è nessuno gli ha chiesto di fare l'incantatore di serpenti gli si è solo chiesto di traghettare la società in come dire in maniera salvandola diciamo da quello che poteva essere un disastro economico e avere degli obiettivi importanti per il futuro cosa che i colombarini per la loro stessa missione non potevano più garantire questo sarebbe stato sufficiente se poi arriverà la serie A tanto meglio non è mai uno che ti dice va bene sai io sono qui per garantire alla Spala un futuro sereno nei prossimi 5 anni se stiamo 5 anni in B va bene di stesso non lo farà mai non lo farà mai ma non credo neanche sia veramente il motivo per cui si è sbarracato questa esperienza altrimenti cosa gliene frega lui mi fa chiare a metà classifica qua esatto ma allora prima di chiudere rispondo ad alcuni commenti qualche possibilità di vedere Rodrigo Elay finalmente non credo Stefano perché gioca in Spagna credo stia bene là le maglie di Benevento le hanno vendute 150 euro zio mettete voi quello che volete non lo so non mi sono informato e Ettore dice se scendono Genoa e Cagliari l'anno prossimo è veramente dura non sono d'accordo Ettore perché abbiamo visto che le retrocessioni sono difficili da gestire Cagliari è un ambiente che è una polveriera se retrocedono si ritrovano con una montagna di debiti comunque i giocatori che prendono degli spropositi che non sanno a chi dar via cioè non regalare ma anche lì regalare la roba non è facile non è come Cagliari se retrocede è veramente un problema economico per la anche di Genoa perché in Genoa c'è una montagna di giocatori e una montagna di debiti quindi ne parlavo l'altro giorno con qualcuno cioè Parma e Crotone sono scese allora sul Crotone abbiamo detto ha dato via Simi è un ambiente un po' strano però viva chiara metà classifica giù come i sassi e Parma aveva detto eh madonna c'è questi qua c'hanno uno squadrone c'hanno Vasquez che comunque ha segnato 15 gol in categoria non c'entra niente sono arrivati 7 punti 8 punti sopra la spalla quindi conosciamo anche noi cosa significhi retrocedere della Serie A e le scorie a livello economico psicologico giocatori smaronati che non hanno voglia di stare lì ma ci devono stare perché non c'è alternativa quindi sì insomma non sarà facile per nessuna di quelle che retrocederà già e poi Stefano ci ho letto che nessuna squadra vuole fare amiche con la SPAL nella turniera in USA non è esattamente così Stefano no ho visto che è stato scritto qualcosa ma la storia è un po' più complessa cioè c'è stata spiegata la sera della cena a Tacopina con i giornalisti praticamente la SPAL vorrebbe andare quei 10 giorni negli Stati Uniti a inizio luglio il problema è che a inizio luglio la MLS il campionato americano è in pieno svolgimento quindi è difficile che una squadra che ha comunque un programma nel senso che là le squadre poi devono volare che ne so da Salt Lake City a Chicago cioè è un po' un po' fidati logisticamente parlando la SPAL vuole dire l'idea della SPAL era ci stabiliamo nello stato di New York stiamo lì nei paraggi ci alleniamo e così facendo amichevoli magari con le squadre di MLS ma le squadre di MLS uno hanno un programma molto serrato due decidono di derogare da quel programma se chiede la Juve il Manchester United il Real Madrid il Barcellona con tutto il bene che possiamo volare alla SPAL non c'è questo appeal commerciale cioè se tu giochi una partita SPAL contro Real Salt Lake City dove gioca Everton Lewis non riempi lo stadio per dire fermo restando che per andare a vedere Everton Lewis vale sempre la pena ma insomma però se Everton Lewis solleva Mancosu da terra la prima amichevole Mancosu deve star fuori sei mesi non è ideale ricordo che io ci ho provato ad andarlo a trovare Everton Lewis a messaggiare con lui quando sei andato in viaggio negli Stati Uniti e non ti ha mai cagato quando sono andato là ero lì ma non ho mai cagato su Instagram dopo guardo se quantomeno ha letto un messaggio oppure se a due anni cosa ci sono stati due anni tre quando sei andato quindi sono ancora qua e quindi non è vero che nessuno vuole fare amichevole con la spalla il tema è che hanno provato a capire se c'erano squadre di altre leghe perché nei Stati Uniti non c'è solo l'MLS ci sono altre leghe semiprofessionistiche però lì non hanno trovato soluzioni che fossero di grande di grande senso un po' per il livello e un po' per la pilla anche per il pubblico insomma perché se vai a giocare contro una squadra di una Lega minore chi viene a vedere dicendo insomma avevamo detto che avremmo fatto una diretta light alla fine sono già arrivano le domande guarda Giovanni Lacchi ciao Lacchi tra l'altro ci conosciamo un frosinone che nella turniera americana finì a fare amichevole con squadra della terza Lega ecco non ricordavo questo particolare ringrazio Lacchi per averlo ricordato andrò a informarmi adesso a vedere con chi hanno giocato però la terza Lega statunitense che livello puoi esprimere e allora tanto vale che vai in Val di Sole giochi con la rappresentativa dei falegnami locali e non lo sarà mica almeno almeno hai i tifosi della SPAL che vengono a vederti perché quei cinque magari trovi anche l'incontrista per la prossima stagione chi anche lo sa sì probabilmente quindi meglio meglio stare dietro casa io sono dell'idea Leo poi io di marketing non capisco niente però io sono dell'idea che una squadra come la SPAL che è un po' al villaggio di Asterix nel senso che è molto rappresentativo di una comunità geograficamente precisa possa fare queste cose eventualmente solo se dovesse essere promosse in Serie A quindi se è una squadra in Serie A quindi la notizia negli Stati Uniti è oh viene una squadra in Serie A a fa una amichevola allora lì ha senso ma se viene la quindicesima o sedicesima classificata del campionato di B ma chi ti fila ecco con Detroit 10 a 0 quindi sì insomma dai che roba è vabbè andate a vedere la Coppa Italia dice Bud sì adesso io andrò a vedere nel secondo tempo la Coppa Italia ma se stiamo iniziando no no abbiamo iniziato siamo online da 50 minuti e stiamo finendo troppo tempo per una diretta live come c'erano ma vedi Leo con i commenti per fortuna si finisce sempre col chiacchierare a ruota libera chi è arrivato adesso gli dico mi dispiace ma comunque potete vedere la differita subito dopo sulla nostra pagina Facebook lo potete vedere anche su YouTube tra un'oretta circa tempo di fare un upload e niente vabbè Leo per la stagione del divano abbiamo finito salutiamo la partina Poletti che stasera non c'era andata a bere perché non abbiamo avvisato che facciamo la diretta abbiamo fatto 29 29 appuntamenti il trentesimo vuole essere quello dal vivo per tutti i dettagli rimandiamo al sito dello Spallino perché stiamo ancora organizzando ci stiamo provando con tutto il cuore però mi sarebbe piacere se venite a trovarci così almeno facciamo due chiacchiere anche offline a giugno ci fermiamo abbiamo bisogno di riposarci anche perché giugno è il mese del mercato che esiste solo nelle teste dei giornalisti o dei procuratori non esiste che faremo la diretta giugno se non in casi ultra eccezionale cosa hai vinto per il vostro gioco niente la gloria Stefano nulla delle offese aspetta ma che abbiamo detto la settimana scorsa della Poli perché abbiamo fatto il giochino ah beh la Poli ha detto Colombo io ho detto Vido Vido non ha anche giocato o forse è entrato alla fine Colombo ha fatto schifo come al solito e no dai poverino diciamo che sono già prenotato fatelo comunque ci ci proveremo a vedere per una birra collettiva con 10 15 sbiellati chiunque di voi verrà a venire sarà il benvenuto noi faremo una diretta anche dal vivo se ci riusciamo quindi ci vediamo probabilmente tra una settimana sì vabbè qualcosa del genere comunque vabbè l'errode giornalisti per la tournée posto finestrino ha detto ha detto Tacopina che no ce lo dobbiamo pagare se vogliamo e quindi niente vabbè niente buona notte a tutti per stavolta e a presto con qualunque roba decideremo di fare con lo spallino però vi faremo sapere per tempo vabbè assolutamente ci sarà un preavviso di almeno 72 ore per l'evento buonanotte ciao a tutti